Allora, amici del tubo, dunque qualche tempo fa parlammo della vecchia questione, gli apostoli si attraggono oppure i simili stanno con i simili. Allora, io ho già espresso il mio parere in merito, perché secondo me sono un po' vere entrambe le cose, nel senso che bisogna andare a guardare a che profondità si considerano questi aspetti. Allora, io ho già detto che secondo me i simili stanno con i simili, in generale è così, difficilmente le persone tendono a stare insieme, sia in amicizia, in amore, in tutte le situazioni. Difficilmente tendiamo a frequentare più di tanto le persone con cui siamo poco allineati, le persone con cui, come vogliamo dire, abbiamo una frequenza troppo diversa, perché in qualche modo la cosa ci fa sentire a disagio, quindi a meno che non siamo masochisti, generalmente tendiamo ad andare verso persone che abbiano qualcosa di simile a noi nel profondo. Poi salendo in superficie sicuramente ci possono essere le differenze, anzi a volte questo tipo di differenze è anche positivo, perché magari ci può stimolare, ci può compensare di qualche cosa che non abbiamo, per cui secondo me bisogna essere simili dentro e si può essere, diciamo, anche diversi in superficie. Allora, adesso questa stessa questione l'ho trovata su questo librino di PIS, di coniugi PIS, In questo paragrafo che si chiama, gli opposti si attraggono veramente? E ci siamo trovati, devo dire. Allora, probabilmente il vecchio cliché degli opposti che si attraggono ha causato più problemi e rotture nelle coppie di qualsiasi altro stereotipo sulle relazioni. Induce a credere che un uomo e una donna si troveranno bene se a lei piace l'ordine e lui lascia vestito sul pavimento, se lui è caccia dipendente e lei non lo sopporta, se a lei piacciono le gallerie d'arte e lui le discoteche, se lui è a stemma mentre lei è una fase alcolizzata. Tutti gli studi che trattano il comportamento, gli atteggiamenti e la longevità delle coppie dimostrano chiaramente che mentre gli opposti rivestono certamente qualche ruolo all'attrazione iniziale, però diciamo sempre opposti, secondo me, superficialmente, a lungo termine diventano potenzialmente, potenziale per tensioni e rotture, quindi evidentemente sta parlando di essere opposti però più in profondità. Perché se a me piace l'acqua e ti piace il vino, queste sono cavolate, oppure se a me piace Mozart e ti piace la musica e la discoteca, queste sono stupidaggi perché non c'entrano niente. Quello che ti fa, diciamo, andare in contrasto sono gli opposti, sono le differenze sulle questioni proprio profonde, su quelle di base. E' chiaro, se io voglio, non lo so, la famiglia del Molino Bianco e tu sei un donnaiolo, allora là non ci trovo più chiaramente. Le coppie diverse nelle caratteristiche comuni di base sono destinate al divorzio. Questo non vuol dire tutte le coppie che in molti campi solo agli opposti non dureranno. Una piccolissima parte funziona, ma la maggioranza ha una vita postellata da disaccordi e litigi. Oppure, per esempio, coppie che hanno una diversa religione, una diversa idea politica, una diversa mentalità proprio, no? Queste sono, diciamo, quasi impossibili da far durare, perché poi, diciamo, che le coppie durano, la durata delle coppie dipende da fattori molto razionali, molto, diciamo, di compatibilità proprio. Quindi fattori molto razionali, non emotivi, per cui se non c'è un match su queste questioni profonde, chiaramente la cosa non può durare. E questo è il motivo per cui, ad esempio, durano anche i matrimoni combinati. I matrimoni combinati sono basati fondamentalmente su questioni razionali, su compatibilità, su idee in comune, obiettivi in comune, non sull'emotività, assolutamente. L'emotività non c'entra proprio in questi tipi di rapporti. Lì magari subentra, sicuramente col tempo, subentra magari un affetto, non lo so. Però, diciamo, quei matrimoni durano su basi razionali, non emotive. Anzi, spesso l'emotività è proprio la cosa più difficile da fare, diciamo, da gestire, perché è qualcosa di razionale che non riusciamo a controllare poco. Allora, quando le coppie hanno obiettivi diversi, perdono tempo utile andando continuamente in direzioni opposte. Quindi magari, non lo so, io sono una conservativa che vuole la billetta in campagna con cinque figli e quella magari è un donnaiolo che ogni sera si va a breccare, chiaramente, non è possibile, ovviamente, fare una cosa del genere. Allora, David Bass ha scoperto che le coppie che vivono relazioni stabili, più armoniose, e hanno il minor numero di separazioni, sono quelle della stessa razza, religione, gruppo etnico, e che hanno valori o ideali sociali, morali, etici e politici simili. In altre parole bisogna trovare qualcuno che sia simile nei miei valori e nelle opinioni di base. Questa è la verità. Allora, lui parla anche di valori ideali, sociali, morali ed etici. Quindi in questo c'entra la religione, la, non lo so, la politica, la visione proprio della vita. Perché tu ti ritrovi ad affrontare delle questioni, chiaramente, puoi trovarti di fronte a questioni molto importanti, no? Pensate, per esempio, non lo so, una coppia formata da lei che è una pro-life, una conservative, cattolica e cose del genere, e lui invece che sta tutto all'opposto, no? Che è un progressista, arcobaleno, leftist, pro-choice, eccetera, eccetera. Che cosa succede? Che nel caso in cui, non lo so, gravidanza, bambino down, ovviamente lui vuole abortire e lei no. Quindi pensate a queste questioni come che si fa? Chi ha ragione? Comincia una guerra, senza precedenti. Oppure, non lo so, lei è cattolica e lui è musulmano. Allora, questo bambino come si educa? Lui lo vuole mandare alla scuola voranica, lei lo vuole mandare alla scuola cattolica. Lui vuole, non lo so, chiudere la bambina in casa e lei invece lo vuole mandare alla scuola. Cioè, insomma, vengono fuori cose molto pesanti che chiaramente non hanno soluzione, perché ti devi solo, a un certo punto, per trovare un accordo, cioè l'accordo non esiste, praticamente uno dei due deve soccombere necessariamente di fronte ad ogni questione, quindi non esci più da questa cosa. Perciò le questioni profonde devono essere compatibili, perché ti ritrovi ad affrontare delle questioni molto serie, molto grosse, che quindi non... cioè qua non si parla del mettere l'acqua frizzante o liscia a tavola, qua si sta parlando di cose molto molto grosse che richiedono comunque l'accordo, per cui se si hanno delle visioni diametralmente opposte, delle visioni politiche, etiche, religiose, eccetera, eccetera, chiaramente tu non vai da nessuna parte, perché ovviamente diventa impossibile, diventa un litigio, una guerra quotidiana diventa, oppure pensate, lei ultra femminista e lui più conservative, buonanotte, cioè lei magari si sente una schiava pure a preparare la cena, vuole buttare il figlio all'asilo fin dai tre mesi, lui magari dice, no ma a me questa cosa non mi sta bene, perché mio figlio deve crescere, insomma, in maniera più seguita, eccetera, eccetera, e quindi anche là, no? Pensate le questioni, le guerre, che insomma, veramente diventa impossibile, invece ovviamente avendo delle idee profonde, simili, chiaramente tu puoi risolvere queste questioni e non se ne frega nessuno se a te piace l'acqua frizzante e lui piace l'acqua liscia, perché queste sono stupidaggini, oppure se a te piace giocare a tennis e lui vuole fare lo sci, cioè queste sono stupidaggini, ovviamente, ma le cose da vedere, perciò le cose da vedere bene poi di base non sono tantissime, sono quelle tre o quattro, visione politica, visione della famiglia e ideali, ideali nel senso ideologie, questo si deve andare a vedere, fondamentalmente sono tre o quattro le cose fondamentali nella raccomandata, perché se vanno bene quelle lì e poi ovviamente si è creata una certa intesa, una certa chimica, allora la puoi andare bene, tutte le altre cose poi si aggiustano, si modificano, sulle altre cose puoi lavorare, ma su queste cose di base chiaramente no, sulle cose così profonde, tu le persone non le cambi, assolutamente, anzi, più vai avanti e più queste idee sono radicate in te, quindi paradossalmente tu non puoi assolutamente cambiare le cose profonde, poi tutte le altre cose sono stupidate, ci puoi lavorare, puoi smussare gli angoli, puoi chiudere un occhio perché sono stupidaggini, ma le cose profonde quelle non le cambi, l'indole non la cambi, la mentalità non la cambi, la visione di vita, la visione sui temi etici, tutte queste robe qui, quelli sono impossibili da cambiare ed è anche molto difficile poi trovarsi su queste cose, molto difficile, è una cosa molto 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 difficile trovare una persona con cui si incastrino queste cose profonde e contemporaneamente con cui si crei qualcosa di la cosiddetta chimica, no? Trovare l'incastro di queste due, di questi fattori è molto difficile in realtà, perciò bisogna fare molta attenzione a queste cose qui perché poi queste scelte ti vanno a influenzare tutta la vita, quindi molta molta attenzione bisogna fare. Alla fine non è neanche tanto difficile da capire tutta sta roba, bastano veramente tre, quattro domande, proprio tre, quattro domande, ormai per esempio ci sono anche i social, no? Che aiutano molto a capire uno da che parte sta, si vede subito da che parte sta, basta proprio che apri la pagina subito, capisci? Proprio subito, bastano tre frasi, anzi forse pure una e già hai capito questo da che parte sta, quindi non è assolutamente difficile capire questa cosa, è molto molto facile, per cui molta molta attenzione alle questioni profonde. Adesso invece che si fa? Si va a vedere, oh guarda, tutti e due piace l'acqua liscia, oh guarda, tutti e due piace lo sci, guarda e hanno fatto e invece il cavolo queste cose qui non servono a niente perché poi vai a scavare su queste questioni profonde ed esce un disastro, un disastro totale per cui sbagli completamente tutto e ti freghi, e ti freghi, va bene, va bene, quindi cari amici mi raccomando. grazie a tutti. grazie a tutti.